Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo tornati su questo nuovissimo video Oggi, come potete vedere, ho la maglia dell'Italia che adesso gioca Che adesso alle 9 giocherà, come potete vedere, no? L'ho comprata prima, prima di fare questo video ero alla fiera a comprare delle cose, no? Oggi è proprio questo che parleremo Vi piace? E l'ho presa prima, ovviamente, perché io prima non l'avevo Questa qua è la mia Champions League giocattolo È veramente realistica, è bellissima questa qua Io l'adoro fino a quando l'ho vista per la prima volta Guardate, ve la faccio vedere proprio, veramente bene Qua ci sono le mani, queste qua, così Poi qua, ovviamente come la vera Champions League dentro non c'è niente C'è questo qua che può stare... può stare... così Come potete vedere... stavo distruggendo il mio telefono e la Champions League No, sto scherzando Ecco qua Vi piace? Se vi piace mettete like, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina Mi raccomando Per seguire questo canale che può succedere di tutto A poi, se questo video arriva fino a 15 visualizzazioni Porterò un altro video sempre con le maglie Che ve lo farò vedere per bene Benissimo, ragazzi Questo video si conclude qua Andate a vedere il video in cui vi mostro il mio profumo Mi raccomando, iscrivetevi E io e la Champions League ci vediamo domani con un prossimo video Ciao ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi